Noi abbiamo cominciato questa scuola di fertilità, l'abbiamo proprio voluta chiamare così, rivolgendoci agli operatori del settore, sostanzialmente agli studenti, anche a ostetriche, ginecologi, medici e così via. Però quello che vogliamo è che poi queste informazioni che cominciamo a dare con gli appuntamenti della scuola si diffondano poi tra i cittadini, nell'opinione pubblica e quindi formare piccoli gruppi consapevoli, competenti e aggiornati perché poi però l'informazione si allarghi a tutti i cittadini.